Ciao a tutti, io sono Giovanna Ranotto e sono un astrofisico che per lavoro si occupa di didattica e divulgazione scientifica e giusta computer. Durante le serate pubbliche, quando spiego l'osservazione del cielo d'occhio nudo, c'è sempre qualcuno che mi chiede ma cos'è quel puntino luminoso in cielo, quello che splende di luce rossastra. Il primo pensiero che viene in mente a queste persone è che si tratti di un oggetto volante non identificato o qualcosa di simile. E quasi sono deluse ma al contempo meravigliate che quel puntino che stanno osservando d'occhio nudo non è un'astronave aliena, tipo quelle dei film di fantascienza, ma addirittura un pianeta, Marte. Probabilmente vi state chiedendo, come faccio a distinguere Marte ad occhio nudo? Basta osservare come è fatta la sua luce. È una luce fissa, a differenza di quella delle stelle, che invece scintilla, cioè sembra tremolare. Ora che lo sapete, farete un figurone con gli amici la prossima volta che ve lo chiederanno. Marte, il pianeta rosso, sarà proprio il protagonista indiscusso di questo MOOC. Durante il corso, tra le altre cose, scoprirete perché è noto anche con questo nome e perché da sempre affascina l'umanità. Vedrete anche quanto sia difficile e irta di ostacoli l'esplorazione marziana, a tal punto che di tutte le sonde lanciate verso Marte solo una su mille ce la fa, per parafrasare una nota canzone di Gianni Morandi. E troverete anche tante curiosità più o meno note relative alla storia delle osservazioni marziane e la presenza di Marte nell'immaginario popolare. Se ne avete voglia potrete mettervi alla prova con tanti quiz lungo tutto il percorso. A questo punto siete pronti per iniziare il viaggio alla scoperta di Marte. Buona visione! Grazie a tutti!